Nella scadetta operativa che avevamo predisposto, l'Arco Guerra doveva avere un incipit doveroso, anche perché ha le ali nella testa, oltre che le ruote nella bicicletta. C'è un filmato, credo, che possa parlare prima di noi, perché le immagini a volte sono più espressive delle parole. Le parole seguiranno, poi abbiamo un fiume, una conoscenza totale e assoluta della storia della bicicletta, una storia che l'Arco Guerra Senior, anche questo poi in parte, ha animato nella maniera più straordinaria con sentimento. Questa era la differenza rispetto al suo grande rivale Binda, che era un personaggio che era più crudo, più ruotato, diciamo, alla mente, al raziocinio. Guerra invece era un personaggio straordinario per la sua umanità, per la sua semplicità, ed era un trascinatore di folle. Successivamente il dualismo tra guerra e Binda si è tramandato a livello di caratteri con partali e coppi, coppi straordinario campione, raziocinio, partali molto più umano, molto più portato ad essere vicino al sentimento della gente. Grazie.